Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. In queste ore la coda dell'ex uragano Kirk è arrivata sul nord Europa e purtroppo ha colpito anche l'Italia, solo quella settentrionale. Infatti da quanto si apprende nella notte tra il 9 e 10 ottobre, un fortissimo nubifragio si è abbattuto su Milano e la Brianza. A turno alle 3, una grossa quantità di acqua è venuta giù facendo ingrossare immediatamente i livelli dei fiumi cittadini. In particolare c'è molta attenzione per quanto riguarda il fiume Lambro e anche i Seveso, che negli scorsi giorni sono stati protagonisti di straripamenti importanti. Per questo la protezione civile per tutta la giornata di oggi, 10 ottobre 2024, ha emesso una allerta rossa per condizioni avverse del tempo, altissimo anche il rischio idrogeologico. Insomma una situazione davvero spiacevole per i milanesi, una situazione che colpisce non solo Milano ma tutta la Brianza. Ovviamente il maltempo ha causato i soliti disagi alla circolazione, andando a bloccare anche diverse strade specie nelle zone dove scorrono i corsi d'acqua.